Sì, una scheretta, una scheretta. Adesso siamo sulla strada proprio tracciata da Sabrognon de Brazzà. Sono fantastici, il nostro autista è eccezionale, ma loro sanno per istinto come il terreno reagisce. Qui, nella stagione delle piogge, Mbè è completamente tagliata fuori. Sono 35, no, 50 chilometri di pista così, ma è come se fossero 300 chilometri. Poi in dei momenti andiamo a 100 all'ora, altri momenti ci troviamo completamente impediti. In questa stagione è appena cominciata, è piovuto due volte e già ci sono questi impedimenti. E mi hanno detto, prima di viaggiare, mi hanno detto, ma forse arriverete e forse no. Perché se a un certo momento non potete continuare, dovete tornare indietro. E se non potete continuare è perché c'è delle laghi di fango. E così siamo, alla peggio continuiamo a piedi, come lo zio Pietro, come i miei sandaletti. E così siamo, alla peggio continuiamo a piedi, come i miei sandaletti. Buongiorno, buongiorno. Il medico del vicino, il il representante dell'administrazione. C'est aussi un prince, c'est le fige du 11e roi A partir de Debraza Celui-là c'est le vice-président, son vice-président Le président de l'administration Moi je m'appelle Idana Et je suis la figuette de mon oncle Pierre Savornian de Brassa Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501